Ciao carissime benvenute, oggi insieme realizziamo un fiore, il fiordaliso. Se avete l'uncinetto tunisino potete utilizzarlo, altrimenti va benissimo un uncinetto normale, infatti io ho utilizzato l'uncinetto 1,75. Il procedimento vedrete che è molto semplice, il fiore è formato da due strati più il calice e le foglie. La parte interna è blu, mentre la corolla di fiori è turchese, ma potrete anche invertire i colori, fare la corolla di fiori blu e l'interno turchese. Possiamo passare all'elenco del materiale e poi al procedimento. Materiale occorrente, cotone blu numero 5, turchese sempre numero 5. cotone verde fiocco, uncinetto 1,75, rocchetto di filo verde da 0,35 mm, gutta perca, tronchesino, forbice, ferretti per il gambo da 1,2 cm o anche un pochino più grosso. Infine l'ago da lana e questi pistilli. Io ho trovato questi che sono sfumati, c'è azzurro, blu e un pochino anche di nero. Se poi invece voi li trovate o tutti blu o tutti neri vanno benissimo. Con il cotone blu realizziamo il tappietto e poi lavoriamo 6 catenelle. una, due, tre, quattro, cinque e sei. Chiudiamo in tondo con una maglia bassissima, una catenella e lavoriamo nel cerchio 6 maglie basse. una, due, tre, quattro, cinque e sei. Chiudiamo con una maglia bassissima. secondo giro, una catenella e lavoriamo 12 maglie basse, quindi due maglie basse in ogni maglia del giro precedente. Ho fatto le prime due e metto il marca punti sulla prima. procedo con altre due, sono tre e quattro, altre due, cinque e sei, altre due, sette e otto, altre due, nove e dieci, ultime due, undici e dodici. tolgo il marca punti e chiudo con una maglia bassissima. Tiro il filo e lo taglio. Nascondete i fili nel lavoro. Poi pendiamo, poi prendiamo il filo turchese. preparo il cappietto e inserisco il filo in un punto qualsiasi del cerchietto. la realizzazione del petalo si svolge su due punti. Quindi questo, poi quello successivo. Cominciamo con realizzare sei catenelle. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. entriamo nella prima catenella e prendiamo il filo e teniamo l'asola sull'uncinetto. Punto successivo, ugualmente, prendiamo il filo e lo teniamo sull'uncinetto e facciamo così per tutti punti. Quindi sono una, due, tre, quattro, cinque e sei. Quindi abbiamo fatto sei catenelle e ci ritroviamo nuovamente con sei asole sull'uncinetto. Prendiamo una settima asola entrando nel punto di inizio lavoro. Così. E ora lavoriamo. Per fare questo punto si può usare l'uncinetto tunisino, ma se non lo avete, come vedete io stessa, uso l'uncinetto normale, anche perché il fiore è piccolino e io con l'1,75 mi trovo benissimo. Quindi ora procediamo con il punto. Filo sull'uncinetto e nel primo punto lo facciamo passare solo una volta. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso due. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso due. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso le due asole. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso le ultime due asole. Così. Ora facciamo una nuova riga. Entriamo nella barretta qui e prendiamo il filo. Barretta successiva, prendiamo il filo e siamo a tre. Barretta successiva, entriamo e siamo a quattro. Barretta successiva, siamo a cinque. Barretta successiva e siamo a sei. ed entriamo nuovamente nello stesso punto iniziale e prendiamo la settima asola. E ora ricominciamo con il punto. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso uno. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso due. 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 Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso le ultime due asole. Fino alla fine della riga. Così. Riprendiamo con la nuova riga. entriamo nella barretta e prendiamo il filo. E abbiamo le due asole. Barretta successiva e abbiamo la terza asola. Barretta successiva, abbiamo la quarta. Barretta successiva, abbiamo la quinta. Barretta successiva, abbiamo la sesta. Ora andiamo nel punto successivo e prendiamo un'asola in più, la settima. E ricominciamo a lavorare il punto. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso uno. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso due. Filo sull'uncinetto, passiamo attraverso due asole. 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 Filo sull'uncinetto e passiamo attraverso le ultime due asole e ora richiudiamo il petalo entrate nella barretta filo sull'uncinetto e fate passare attraverso i due asole entrate nella barretta successiva prendete il filo e fate passare attraverso due asole entriamo nella barretta filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso due asole barretta successiva entriamo prendiamo il filo e facciamo passare attraverso le due asole nuovamente entriamo filo sull'uncinetto e facciamo passare attraverso le due asole e andiamo nello stesso punto e chiudiamo con una maglia bassissima e abbiamo così il primo petalo anche se non è ancora rifinito e poi dobbiamo fare il contorno andiamo nel punto successivo e lavoriamo una maglia bassissima e ricominciamo lavorando le 6 catenelle una due tre quattro cinque e sei entriamo nel secondo e prendiamo il filo e abbiamo tre asole nuovamente entriamo e prendiamo la quarta asola entriamo e prendiamo la quinta entriamo prendiamo la sesta e poi andiamo nel cerchietto e prendiamo la settima asola filo sull'uncinetto e lavoriamo il punto passiamo attraverso un'asola filo sull'uncinetto passiamo attraverso due asole 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 filo sull'uncinetto passiamo asole filo sull'uncinetto passiamo attraverso le ultime due asole e questa riga è fatta ora ricominciamo la seconda entriamo nella barretta e prendiamo il filo e formiamo l'asola prendiamo la terza asola prendiamo la quarta prendiamo la quinta prendiamo la sesta nello stesso punto prendiamo la settima asola e facciamo il punto filo sull'uncinetto passiamo attraverso 1 filo sull'uncinetto passiamo attraverso 2 filo sull'uncinetto passiamo attraverso 2 asole filo sull'uncinetto passiamo attraverso 2 filo sull'uncinetto passiamo attraverso 2 asole filo sull'uncinetto passiamo attraverso due asole, filo sull'uncinetto passiamo attraverso le ultime due asole. Nuova riga, nuovamente entriamo nelle barrette e prendiamo le asole. Abbiamo tre e sei. E la settima andiamo a prenderla nel punto successivo del cerchietto. E ora facciamo il punto. La prima la facciamo passare attraverso una asola sola e poi le seguenti attraverso due. Così, filo sull'uncinetto, passo attraverso due, filo sull'uncinetto, passo attraverso due, filo sull'uncinetto, passo attraverso due, filo sull'uncinetto, passo attraverso le due asole e filo sull'uncinetto, passo attraverso le ultime due asole. E ora andiamo a chiudere il petalo. Quindi entriamo nella barretta, filo sull'uncinetto e passo attraverso tutte e due. Barretta successivo, successiva, filo sull'uncinetto, passo attraverso le due nella barretta, prendo il filo e faccio passare attraverso due. Entro nella barretta, filo sull'uncinetto e faccio passare attraverso due. Filo sull'uncinetto, entro nella barretta e faccio passare il filo attraverso due. E vado a chiudere con una maglia bassissima nello stesso punto. E ho ultimato anche il secondo. Vado nel punto successivo e faccio una maglia bassissima. E ora nuovamente ricomincio con le 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E rifaccio lo stesso procedimento, lavorando sempre su due punti per ottenere il petalo. E alla fine avrò 6 petali. Ho lavorato tutti e 6 petali. E ho chiuso qui con una maglia bassissima. Ora facciamo il secondo giro intorno ai petali. Ora andiamo a lavorare questo lato del fiore a maglia bassissima. Così, 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 finché raggiungiamo l'angolo. arrivate qui all'angolo. Lavoriamo nello stesso punto una maglia bassa. Poi 3 catenelle. 1, 2, 3 e formiamo il pippiolino. Il primo. Punto successivo una maglia bassa. E nuovamente un secondo pippiolino formato dalle 3 catenelle. E dalla maglia bassa alla base. Punto successivo una maglia bassa. e nuovamente un pippiolino con 3 catenelle e una maglia bassa alla fine delle catenelle. E siamo arrivati. Arriviamo nell'angolo e lavoriamo la maglia bassa. E facciamo l'ultimo pippiolino. 1, 2, 3 catenelle e la maglia bassa per formare il pippiolino. Andiamo sull'altro lato e ricominciamo nuovamente a lavorare a maglia bassissima. e abbiamo. E abbiamo il primo petalo. Ora passiamo al petalo successivo. Entriamo il primo punto in basso e facciamo la maglia bassissima. E lavoriamo a maglia bassissima anche tutto il lato del petalo. Così. Una maglia bassa. E il pippiolino formato da 3 catenelle. E una maglia bassa. Punto successivo una maglia bassa. E nuovamente il pippiolino. punto successivo una maglia bassa. E un pippiolino. Punto successivo una maglia bassa. E il pippiolino. punto successivo una maglia bassa. E rifinisco a maglia bassissima il lato del petalo. e ho così anche il secondo petalo. e ora continuo. E lavoro lo stesso procedimento anche sugli altri quattro petali. Ed ecco ho finito la prima corolla di sei petali. che ho chiuso con una maglia bassissima. E ora nascondo il filo nel lavoro. così. E taglio il filo. Ora con lo stesso procedimento ne realizziamo un secondo. che poi andremo a sovrapporre quando assembleremo tutto il fiore. ora prendiamo il cotone verde. e prepariamo il calice. cappietto. e facciamo cinque catenelle. due, tre, quattro e cinque. e chiudiamo con la maglia bassissima. andiamo nel cerchio e lavoriamo sette maglie basse. due, tre, quattro, cinque, sei e sette. e chiudiamo con una maglia bassissima. e chiudiamo con una maglia bassissima. Giro successivo, una catenella. e lavoriamo quattordici maglie basse. quindi ne facciamo due in ogni punto del giro precedente. due, tre, quattro, cinque e sei. sempre due nello stesso punto. sei, sette, otto, nove, dieci. undici, dodici, ultimo punto, tredici e quattordici. e chiudiamo con una maglia bassissima. nuovo giro facciamo una catenella. e ora lavoriamo due giri da quattordici maglie basse. una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. ho ultimato i due giri da quattordici maglie basse. e ora chiudo con una maglia bassissima. tiro e taglio il filo. metto bene sul dritto. e faccio passare i fili all'interno. così. e il calice fatto. realizziamo la foglia. facciamo il cappietto. e lavoriamo dodici catenelle. una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. più una per cominciare il nuovo la nuova riga. quindi saltiamo la prima entriamo nella seconda e lavoriamo una maglia bassa. poi una mezza maglia alta. 5 maglie alte. una, due, tre, quattro, cinque, tre, quattro, cinque, tre, quattro, cinque. una mezza maglia alta. quattro maglie basse. una, due, tre, quattro. sulla punta lavoriamo due maglie basse nello stesso punto e ci ritroviamo sull'altro lato. qui nuovamente ripetiamo lo stesso procedimento. quindi prima le quattro maglie basse. una, due, tre, quattro. una mezza maglia alta. una, due, tre, quattro, cinque, quattro, cinque, quattro, cinque. una mezza maglia alta. una mezza maglia alta. chiudiamo con una maglia bassissima. prendiamo il ferretto verde e lo poggiamo sul lavoro. filo del lavoro dietro e sotto e filo con l'asola qui sul davanti. facciamo l'asola e blocchiamo il ferretto. e ora voliamo a maglia bassa il contorno della foglia. arriviamo sulla punta. qui sulla punta lavoriamo due maglie basse nello stesso punto. prendiamo bene il filo e riprendiamo lavorare sull'altro lato sempre a maglia bassa. e ora voliamo a maglia bassa. siamo alla fine. e chiudiamo con una maglia bassissima. tagliamo il filo. facciamo il nodo. togliamo il filo che abbiamo già inserito. sistemiamo bene la foglia. tirando bene un pochino il ferretto. la punta la schiacciamo un po'. così. e arrotoliamo. e blocchiamo bene il filo. e la foglia è fatta. ora con lo stesso procedimento ne preparate un'altra o anche più di una per ogni fiore. come preferite in base a ciò che avete deciso di realizzare. ora assembliamo il fiore. prendiamo i pistilli. sono otto. con il ferretto. qui nella metà. li fissiamo così. e poi pigliamo in due. così. e tagliamo. prendiamo il ferro per il gambo. e lo appoggiamo qui alla base dei pistilli. cominciamo ad arrotolare. così. prendiamo la gutta perca. e ricopriamo qui. un po' la base. e poi. il gambo. fin dove c'è il ferretto dei pistilli. così non avremo difficoltà ad andare ad inserirlo nel primo strato del fiore. poi andiamo a infilare il secondo strato. sistemiamo in modo che nel primo strato si vede il secondo sotto. e poi il calice. così. così. a questo punto. giriamo un pochino i fili. riprendiamo la gutta perca. e andiamo a bloccare bene il calice e i fili. così. e schiacciamo un pochino in modo da aprirli. un po' giù e qualcuno che resta su. e per finire fissiamo le due foglie. così. e la seconda. poi con la gutta aperta. e con la gutta perca nuovamente ricopriamo tutto il gambo. ed ecco fatto. abbiamo assemblato il fiordaliso. ed ecco ho ultimato il fiordaliso. come avete visto è semplice da realizzare. è carino vero? bene. il progetto è così ottimato. se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale youtube. cliccando anche sulla campanellina. così ogni volta che realizzerò un tutorial. riceverete una notifica. grazie ancora per la compagnia. un abbraccio. ciao a tutte. grazie. grazie.